Ferenze del partito. Mientras tanto, con il sabato, abbiamo un calcio con Raqqai, calcio con Raqqai per Virgil Hersilia, che vogliono espulsare, fuori del terreno per l'arbitro Brian Virgini, e anche con il nostro amico, dentro di due metà, il nostro baiano sabato, è cambio, con Abini, per il nostro amico, Leroy Fondongo, abbandonare il partito. Io sono sicuro, Leroy è passato a noi, l'arbitro non continuano il partito, ma venendo a Berglia, abbiamo provato, abbiamo visto un tremendo partito, un partito con il proprio 45 minuti, abbiamo avuto un gol, questa è stata la equipa di Vespo, un buon tiro di Icenia, però, le due partito qui passano a Vespo, è subito con 10 o'amber, quando decidi, decidi all'Atletico Flamengo, e qui non lo so che a Vespo, l'Atletico Flamengo, la possibilità di usare, abbiamo libero con niente, per averloccato a e- speakare le due gol, per la lascoltare, e il Vespo abbiamo prenduto un gol più di Vespo, bisogna1 game per andare a rip, per poter quanto non a le scopo, e se fosse che, non mi sembrava a pomeriggare la squadra, sai e buscare le due gol, sai e buscare le due gol, con il fottobolo tranquillo arriva pari tattico, e con il momento in cui il cammino è in questo terreno, per preparare il mese per la bianca di vittoria di oggi. Passavamo il nostro 3-4 di domenica, e con il 60 anni di FB in Dalsac, perché vogliono andare a seguire, per perdere, per farlo. Perché vogliono andare a seguire preparare il campionato, quello che è in luna di agosto, fin di agosto. Però un partito in questo momento in cui è in un halftime, ha avuto un'opi movibili, ha avuto un'attacca per l'equipo di Vespa, ha avuto più pressione in l'equipo di Atlético Flamengo. Il Atlético Flamengo, per poco, ha avuto un'arcazione, sicuro, sicuro, ma è il mio amico dell'equipo dell'Atlata, dell'Atlata di Uri che si è in pala, e nel momento in cui noi stiamo mirando l'equipo di Atlético Flamengo, è arrivato il terreno, l'arbitro principale sta donando l'instruzione, i due capitani per la cinta secca, in cui noi stiamo mirando l'attacca, l'arbitro sportivo, evitare un'attaccazione, in cui non c'è un'attaccazione, ma un'attaccazione di un'attaccazione di un'attaccazione di un'attaccazione di un'attaccazione, di un'attaccazione di un'attaccazione, venendo, e dopo il'attaccazione di un'attaccazione di un'attaccazione di un'attaccazione, con un'attaccazione di un'attaccazione di un'attaccazione, continuazione di un'attaccazione di un'attaccazione di un'attaccazione, di un'attaccazione di un'attaccazione di un'attaccazione, di un'attaccazione 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 di un'att buccia una saliva nero subievi senato arrivo un cero da di 10 o meno però te le pomeriggio si mira atletico flamingo tambi arrivo a te rio non ti si no suacchi bom uno stres non passa attacare qui per te con l'amico passi non le direzione camina por via d'attenzione però tempi tazzo di arvido celando falta falta contra di Alexander Piar, che ha un tiro libero a favore dell'equipo di Vespo. Il nostro veloce è marcando che non parla di 2 minuti, che è 3 minuti, 10 e 2 tempi, è parte complementaria del partito. Io sto sperando arriva la bala, per avere un sacco laterale per la banda direcci, a favore dell'equipo di Atletico Flamingo, che è andando a favore dell'equipo, con il viento non è in favore, a pesar che non ci sia un fattore di viento, non è in viento, l'equipo non parla, ma è tranquillo, non è in favore, non è in favore, ma è in viento che si è in viento. Soviene l'equipo di Vespo, andando a vivere con un pass, arriva a la Robes, venendo che non di un plan di attacchi, Redolf Félix, la pide bala, ora che vale che da l'agra, cerca il portero, Sueni Pauletta, questa è in vizio, Pauletta deve dare, due via a Bau, e saque, di oro con lo che non, rechazato la cabeza, non, va a parar, va a bajare, mi soro, vai a Arnick, Pacman, questa vai a salir, questa vai a salir fuori, va a la Robesina, mi soro, con otro compiero di questo equipo, che sta bajando, che non è in viena, attras, donando a Johnny, Jonathan Merenciano, tardando un poco, mi soro, non è in viena, la Mattia sta in capito di Valle, la manda, volvì un via, ma, otro pass di Jonathan Merenciano, largo di l'anti, molto largo, vale, che va a arrivare, sta cerca il portero, sta cerca il portero di Vespo, con la Miron Rombli, e sta, Garri Mesora. E saque del portero Hopi Alta, da Piero Valle, un ballo che sta passando, Medellin, 3, 4 canti, è da Bimbons, e non, ando pedendo, Rens, per e non, Rela Félix, sta vorrei farlo, e la bandeira di Bajardo, se è l'anno di infracciò, gente sta vai tenere, tiro libero, a favor del equipo di Vespo. Si, hai un tiro libero che c'è nella cabina, di Bopora, mirei, io ho guardato Mattias, il teclo ho guardato, però, già, sta dentro di casa di arbitro, però, già, Brian sta paracchettinando, mostrando, già, io non stavo da un gara, è a pocarti, però, nel momento che noi siamo mirati, dopo, toccato, che hanno, di dolore sui, noi siamo mirati, e cambia ora qui, per l'equipo di Flamingo, noi siamo mirati, è un gattore, numero 4, di Flamingo, di S4, Samy, Samy, si, la squadra, Samy e Meriziana, abbandonano il partito, e la grande squadra, non sia troppo subito, perché il numero è, ma non ci sia buon. Il partito è continuato, cruzare anche in Angli, di Pape e Senna, è un palco da Bons, in area e poi salire in linea e finale virando un sacco di gol oienti a favor di equipo di Atletico Flamingo è un dono di 5 a subito al lugar di Samy Jeff Messidor è stato poi questo cambio 4 un bel lugar è un seno di Atletico Flamingo e va a cercare a Jonathan di Merenciano è un seno di Nigel Coffey Coffey su passe non è un seno di Lave 2 giocatori in busca di Bala Bala che ti va a rungare di Lante e ti è un pitazzo di Alvittro Falta Falta come te per Nigel Merenciano Sì Jonathan Merenciano che sta venendo Carchi Hilda mi pego Gadi Sabe che te costano mi te chiede con il equipo di Atletico Flamingo tengo a tenere cuenta con il il equipo di Vespa salire di 2 metà che tu vai con presione non sta buscando per rungare di 2 gols per se ne che non può dominar il Gadanan e il equipo di Atletico Flamingo da Pau di Presione che io mi si comincia a controllare di tranquillizzare nel mese per una bala per sobra se non è il equipo di Vespa è arrivato ma cerca di gol non sta sicuro 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 con il team che mi pare di difensivo donando Vespa e spazio per attacare tutti i gols che non è attraverso di Bolle e Femmo che si è arrivato a 6 minuti e mei un gando dentro di 2 tempi del partito è parte complementaria 1-0 è partito 1-0 ganando il Vespa di l'equipo di Atletico Flamingo e Bolle arriva territorio e l'equipo di Vespa rechazare Mesura per defensa parare Mesura altro intento dell'equipo di Atletico Flamingo è passare Giovanni Maccay quando domina e Bolle se non metterà buscando copiare copiare diretti che è un buon passe attacare passe da molto largo un gatto è facilmente la defensa è corretta contro la situazione della che Bolle sale in linea finale per capire la sacca di gol a favore dell'equipo di Atletico Flamingo sì è parte per la velocità tutta la scena che stavano nel primo tempo ora che notate sobra nella salita nel primo tempo ora miro che stavano una ufficione nel primo 5-6 minuti di una ufficione trai bala e nel momento che stiamo mirando l'equipo di Atletico Flamingo sta preparando dame due cambios è problema che stavano nel parare difensivo e noi stiamo mirando due segundi nella messa ora qui sta preparando per cambio di un cena di equipo di Atletico Flamingo e il cambio sta vai in un lugar nel momento qui arbitro Brian Virginia è il nostro per cambio Vespo haci il suo primo cambio è il numero 3 Rutger today sta abandone il terreno e il nostro luogo il numero 23 questo è stato giustizio 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 questa è la squadra di Vespo il Flamengo è un cambio si è un gioco e il gioco e il gioco e il gioco e Sì, e come da l'equipo di Vespa è un'unico numero 20 con la direzione Asluin. L'aggo suacchi buong, l'aggo suacchi buong. Sì, è un'unico numero 20 con Damerick Casper. Correto, è un'unico numero 2. E come per l'equipo di Flamengo è Yannick Beckmann Asali e in questo numero 3 è Injomar Martes. E la nostra amera è un'ador, Yonatan. Yonatan, che numero è? Qui non si ha... Alessandro Craner. Alessandro Craner, Adrien, è partito. Fai due cambiamenti tra di l'altro per la banda. Due per l'equipo di Atletico Flamengo e anche due per l'equipo di Vespa con Adrien. Esa è qui nostra ammiretta a me da Bini. Di 2 metà qui, Chio, per l'equipo di Vespa con un'unico numero fresco, copia fresco, fresco, per l'equipo di più potenza, più forza di l'equipo, che non può arrivare al final per l'equipo di Vespa con l'equipo di Vespa. E quest'è qui, non voglia di Vespa con l'equipo di Vespa con l'equipo di Vespa con l'equipo di Vespa con l'equipo di Vespa. non abbiamo tempo, ma io che ci trovano varianti, con i treatori e le persone che abbia sbagliato, ma io voglio dire che l'essere è stata aberta, ma la Vespa è una torta in un momento, che mi rimane per la testa, e io mi guarda ora che mi fa una testa, che ha una testa, che aveva bisogno di fare le balle in mano, per evitare che la caccia. Rydolf è una prima del lì, e mi ha giocato per la l'equipe di Vespa. E va lungando il segredo a Félix, attenzione, è dominato per farlo in avanza che non per farlo da Baila che, è salito in linea final, è dovuto fare i colleghi enti a favore del equipo di Atlético Flamengo. Sueni Pauletta e il portero sacando cortico, donando buono a Beantico, just per farlo di aria, Tico Emerenciano, donando buono a Giovanni Mackay, a Tico, a Tico, a Tico, Alisson Cran, a Tico, comandante del equipo di Atlético Flamengo, non c'è un plan per fare i sali, fuori nel territorio, il passe è ben buono, vale che sta passando a Medellin, è un passe, vale che è una pia di defensa e di sali, nella linea di banda fuori di banda direita, saque lateral fuori di banda direita, favorabile per il equipo di Atlético Flamengo. No, solo si marcando Gesù un minuto e bei, diedi dos tempi del partito, 1-0 è partito, 1-0 ganando Vespo di equipo di Atlético Flamengo, Vespo 1 e l'equipo di Atlético Flamengo 0. E per noi, ricordate, i nostri videnti stanno a discutere, e la torno è da sì che c'è piena, c'è piena, non c'è un partito, con lo vai entre quibili Viteza e l'equipo di Young Boys, e chalo Mingo, l'equipo di Estrellas, lo invita l'equipo di Arriba Peru. Que me le sai di programma, e dos, un fecherno con quella, e Siman qui, che me le anteriore, per altri Siman, Bojana e, e Wega. Atacando l'equipo di Viteza e Bala in area, Adesso, inattirando il portero, 3-0 salvaggion, è un altro intento, venendo Redal Félix, anding chon, tapo da bom, perdono per la perebala, avore con Alisson Crana, chon, sacando la bala, donando, Mesori Nagna, otro compiello che sta bajando, Germain, Germain Windsor, inatta Vesuela, pidiendo falda, arbitro, la vista con noti nada, Sigiunga, e avore, che tu vai, si è ta supla, ti un'atrapata, e, non ti un attrapata, ti un entrecambio, també, Il notava dati t collapsed, molt emocionale, cose quivo, tenne cabez preso con la Bala. Gianmissom Piard, è numero 5, ε, non ti n envie a sì che cosa, quivo da 30 devenga cosa vai buscar? the Grangelli Grazie a tutti. 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 ... 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 30... 30... 30... ... ... ... ... ... ... ... 3 minuti 30 minuti 30 minuti 30 minuti 30 minuti a me sapevi due tempo carti corato caì uno per la equipe di Vespoli e l'altro un gol di Vespoli scopo è un gol di carti corato Brian Virginia non sta tolera e non sta vacilando e da sinora arbitravo escezata come si sapevi 6 gol di scopo è un gol di scopo è un gol di scopo e se sei pari uega cabe Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.